Musica Arrivano i tre giorni più caldi della primavera grazie all'anticiclone delle azzorre che si sta espandendo sul nostro paese. Il sole splenderà su tutte le regioni con temperature gradualmente più calde fino a domenica. Aumenteranno fino a raggiungere picchi anche di 27-28 gradi al nord, ma sarà molto mite anche al centro, specie a Firenze e a Roma e al sud. Da martedì una forte perturbazione porterà temporali diffusi al nord e al centro, ma soprattutto un deciso calo termico, anche di 10 gradi rispetto ai prossimi giorni. Poi arriverà la prima ondata di calore in Italia con l'invasione di Hannibal, un immenso anticiclone caldo che ci porterà tanto sole.